Abbiamo già in programma di leggere una gran quantità di libri, forse addirittura tutti i testi di letteratura inglese e sociologia del prossimo anno. Il professore dice che sarebbe di grande aiuto se cominciassimo l'anno avendo i cialdetti durante l'estate ed è molto più facile ricordarlo il contenuto se li si legge in contemporanea a qualcuno perché poi si può discuterne insieme. Anche solo vivere nella stessa casa con la madre di Semi è educativo per me, è la donna più interessante, amabile e affascinante che ci sia al mondo e poi sa molte cose. Pensa a quante state ho passato con la signora Lippet e come apprezzerò la differenza. Non devi aver paura che io sia l'impiccio perché la loro casa è fatta a fisarmonia. Quando hanno molti ospiti piazzano delle tende nei boschi e i ragazzi dormono fuori. Sarà senz'altro un'estate allegra e salure visto che vivremo all'aperto ogni minuto. Jimmy McBride mi insegnerà a cavalcare, a pagaiare e forse anche a sparare o insomma una gran quantità di cose che dovrei saper fare. è proprio quel modo di vivere spensierato, vivace e simpatico che non ho mai conosciuto e che credo ogni ragazza meriti. Alla prossima